Buongiorno amici investitori, sono Dario Sicuro e oggi siamo a Torre Saracena in una località turistica qui in Salento a pochi chilometri, circa 2,5 chilometri dalla splendida spiaggia di Torre dell'Orso, a pochi chilometri anche dai Faraglioni di Sant'Andrea, una delle mete turistiche più importanti sulla costa adriatica e a pochi chilometri dalla lunghissima e caldissima spiaggia degli Alimini qui vicino su Otranto. L'abitazione è totalmente indipendente come accessi e una bifamiliare a pieno terra di recente costruzione. È un ottimo acquisto per chi vuole avere la tranquillità nel godersi le vacanze qui in Salento. Adesso seguitemi e vi faccio vedere questa splendida unità abitativa. Amici investitori, come potete vedere la casa ha un accesso indipendente, un ampio giardino d'ingresso. Bentenuto, anche se siamo fuori stagione, oggi è una giornata caldissima qui in Salento. Naturalmente questo giardino, come dicevo prima, è di esclusiva proprietà di questa abitazione. L'abitazione si sviluppa tutta a piano terra. Adesso seguitemi. abbiamo qui un ampio scoperto pavimentato. Faccio una panoramica. Adesso entriamo all'interno. Questa abitazione nasceva come un trilocale. I proprietari poi hanno eliminato una tramezzatura centrale per ampliare la zona al giorno, ma si può tranquillamente ripristinare. In questo modo loro hanno creato un'ampia zona al giorno per godersi le loro vacanze. Qui abbiamo un angolo cottura. Dopo andremo anche tramite questa porta nel giardino. Adesso vi faccio vedere la zona notte. Camera da letto matrimoniale. Anche qui abbiamo una porta finestra che dà sul giardino retrostante. Vi faccio anche qui una panoramica. Qui il costruttore, in fase di realizzazione, ha creato una nicchia dove si può tranquillamente inserire un armadio. Poi abbiamo il bagno. Bagno comodo con box doccia. Bene amici investitori, adesso il pezzo forte della casa. Oltre ad essere una casa molto curata, ottimi infissi, persiane in legno, sempre ben tenuta. Qui abbiamo un giardino sulla parte retrostante veramente bello. Amici investitori, ce ne sono poche di queste case qui su Torre Saracena e questa è un'opportunità per chiunque voglia acquistare qualcosa di importante, di comodo e di rilassante per godersi le proprie vacanze qui a Torre Saracena. Faccio anche qui una panoramica. Bene amici investitori, da questa splendida unità abitativa con accesso indipendente piano terra di recente costruzione per oggi è tutto. Ricordate sempre di mettere un bel mi piace al video, di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi investimenti qui in Salento. Io sono Dario Sicuro e per qualsiasi informazione contattatemi. Ciao amici investitori, al prossimo investimento qui in Salento.